Sono Giorginho e devo rimanere a me stesso, anche loro sono grandi campioni, grandi giocatori, però io devo cercare di essere a me stesso, tranquillo, lavorato. Si è legato con i brasiliani, grazie. Mi hanno portato già a cena, sono stati bravissimi, comunque quando arrivi in un posto dove hai i brasiliani è normale che le hai subito con loro.